Ciao a tutti amici, sono io, Julia War, e oggi sono qui per aprire insieme a voi una nuova kawaii box. Allora ragazzi, era da tanto tempo che non ne aprivamo una insieme, questa se non sbaglio è la quinta che appunto recensisco. Io davvero le amo, ve le consiglio sempre perché si trovano cose carinissime, molto cute, quindi già da subito vi consiglio di acquistarle. Inoltre, vedendo questo video potete anche partecipare a un giveaway, però vi dirò solo alla fine come parteciparci, quindi quali sono le regole, eccetera. Ma per il momento passiamo a questa kawaii box. Allora, ci sono sempre i soliti disegni, quindi appunto questi cuoricini, la scritta kawaii box e questa striscia che diciamo funge da nastro. Qui c'è l'hashtag kawaii box. Vabbè, direi di aprirla subito. Ok ragazzi, ecco qui, vediamo. Allora, qui c'è ovviamente il solito bigliettino che ci ringrazia di aver acquistato la kawaii box e penso che per via dell'estate abbiano cambiato il tema. Infatti prima era tutto rosa e con al centro è semplicemente la kawaii box. Qui invece ci sono i personaggi principali che di solito sarebbero i personaggi delle borsettine, di tutte le cose che si trovano nella kawaii box. E ovviamente il mare, perché diciamo che questa kawaii box era appunto di agosto. All'interno di questa kawaii box dovremmo trovare dieci cose, però non so che cosa siano, direi di aprirlo subito. Allora, oddio, che carino! Allora, partiamo da questo. Allora ragazzi, sarebbe una bottiglietta molto carina, vedete c'è questo megasole carinissimo. dove possiamo metterci qualsiasi liquido, acqua, succo, cose così, è molto carina. E penso che la terrò insieme a tutte le cose strambe, ma cute, che ho sulla scrivania. Dopodiché c'è questa molla, molto carina. Semplice, ma carina, che come vedete va dal giallo, poi passa a rosa e poi a questo celestino, molto carina. Io ho sempre amato le molle. Guardate, che carina! Poi c'è questo, che praticamente dovrebbe essere un lucidalabbra, perché dice kiss. Eccolo qua. Buono, che ha l'odore dei dolci, infatti sta scritto sweet kiss. Dai, è carino e potrebbe sempre servire, se per esempio si hanno le labbra schepolate. Potrebbe servire. Poi, un'altra penna, finalmente ne aggiungo una nuova alla mia collezione di penne della Kawaii Box. Allora, eccola qui, molto carina. E diciamo, ha i disegni, ha le macchie, che hanno di solito le mucche. Vedete, uno sfondo bianco e delle macchie nere. E sta scritto milichi. Molto carina. Vediamo. Ah, e anche questo colore particolare, questo azzurrino. Questo ovviamente si aggiungerà alla mia collezione di penne, che sarebbe questa qui. Perché è particolare, io queste penne non le uso. Le aggiungo alla mia collezione. Poi, dopodiché c'è questo. Ah, che sarebbe un timbrino a forma di stella, molto molto carino. Eccola qui. Dopodiché, ragazzi, c'è questo, che sarebbe uno squishy. Oddio, da quanto tempo che non prendo gli squishy. Quanto è carino, sembra un dolcetto. Ed è morbidissimo. Oddio, no, io lo amo. Questo squishy lo amo. Poi non ne avevo mai avuti di così teneri. Di questa, diciamo, forma anche. Oddio, che carino. Ovviamente, per non sporcarlo, lo rimetto nella busta. Ho ancora le mani tutte appiccicose per quel lucidalabbra. Poi, dopodiché, c'è questo. Che carino! Penso sia o un coniglietto gigante, o un coniglietto gigante. Cioè, mi sembra proprio un coniglietto. Vediamo se dice qualcosa qui. No, qui dice giusto la marca. Vedete? Comunque, penso sia un coniglietto. Sì, perché, diciamo, ha più le forme di un coniglietto. Comunque, è molto carino. Io amo i peluche così piccoli. E anche questo lo aggiungerò alla mia collezione di peluche piccoli, che ho trovato sempre nelle kawaii box. Poi, dopodiché, ci sono queste, che sarebbero delle caramelle, che, tra l'altro, hanno la forma dei budini. Vabbè, io direi di assaggiarne giusto una, sperando che non mi uccidano. Ecco. Ah, tra l'altro si possono anche richiudere. Ingegnosi. Mi ricordano tantissimo le Aribo, però, alla Coca-Cola, quelle a forma di bottiglietta di Coca-Cola. Comunque, assaggiamo. Allora, hanno la consistenza, cioè, toccandole, sono tipo, appunto, le Aribo, gli orsetti, le Coca-Cola e così. Però, hanno il sapore dei marshmallow. Non lo so come definirle, perché è il sapore dei marshmallow, solo un po' più, non più dolce, ha un gusto un po' differente, però più o meno lo stesso dei marshmallow. Però non sono così male. Cioè, sono buone. Tra l'altro è molto carino, perché è tipo un stacchettino. Poi il fatto che si possa richiudere, secondo me, è molto ingegnoso. Dopodiché, c'è qualcosa che mi fa davvero impazzire. Oddio! Che carino! Che carino! Che carino! Quanto è bello! Quanto è bello! Basta, mi sono innamorata. Sarebbe tipo un piccolo borsello, che è carinissimo. Io penso che qui dentro ci metterò, boh, non lo so, metterò qualcosa, però lo devo usare, perché è troppo tenero. Poi guardate le orecchie! È tutto morbidissimo! Ah, lo si può anche utilizzare come astuccio. Lo si può... Ah, ho capito! Praticamente si può appendere al diario, così, metterlo così, e tenerlo come astuccio. Che bello! No, vabbè, questo lo amo. Tra l'altro è lo stesso personaggio delle caramelle. E infine ci sarebbero questi adorabili adesivi che davvero sono stupendi. Guardate, sarebbero tantissimi personaggi, carinissimi davvero. E ovviamente anche questi si aggiungeranno alla mia collezione di adesivi, che io non uso perché io non uso questi tipo di adesivi perché sono così teneri che li voglio tenere. Infatti non li ho mai neanche aperti, li ho sempre lasciati nelle apposite bustine. però sono tenerissimi davvero. Infine ci sono questi piccoli volantini che ci ricordano anche della Japan Candy Box, che io ho anche recensito insieme a Esther, quindi se vi va potete andare a vedere il video. e qui ci parla in generale della Kawaii Box. Perciò ragazzi, che vi posso dire di questa Kawaii Box? E sicuramente è bellissima e come al solito trovo delle cose stupende. Io vi consiglio di acquistare anche le scatole dagli altri siti, tipo Japan Candy Box, perché davvero sono bellissime le cose che si trovano. Adesso, prima di concludere, direi che è arrivato il momento di parlarvi del giveaway, quindi come poter vincere una Kawaii Box. Prima di tutto, bisogna essere iscritti al mio canale, bisogna mettere mi piace a questo video, poi commentare tutti i giorni sotto questo video e condividerlo. Dopodiché bisogna cliccare sul link che vi lascerò qua sotto nella descrizione, che vi chiederà nome e cognome e indirizzo e-mail. Quindi, mi raccomando, partecipate in numerosi e buona fortuna a tutti per vincere appunto la Kawaii Box. Bene, adesso passiamo ai saluti! A presto! A presto! A presto! Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!